Un'idea può nascere in maniera intima dall'istinto e dall'irrazionalità col disegno, oppure parto dalla foto e man mano vado a comporre questa immagine secondo quelli che sono i principi di improbabilità, decontestualizzazione, scardinamento della realtà. Vado pian piano aggiungendo un contesto a un fantino, poi smonto la sua testa originale e ne monto un'altra, un collage fatto da fotografie prese da contesti diversi, in tempi diversi, gli oggetti, i personaggi, le situazioni, si vanno a cercare fra di loro e si trovano. E poi c'è la fase ovviamente pittorica, mi piace essere fedele ai colori della fotografia. Utilizzo i colori primari, mi diverte crearmi i colori, la magia nel mischiare i colori è una cosa che mi lascia sempre stupito. È un lavoro che sicuramente mi complica la vita, però mi fa entrare lentamente nel mondo dell'acromia e quindi è un approccio lento, una sorta di rituale insomma. Il segno più quella parola sono stato il mio primo amore, sin da bambino, ero molto piccolo, mi piaceva copiare i volti che vedevo sui quotidiani. Gli atteggiamenti umani, i comportamenti, captarne l'energia, il movimento che è anche un movimento molecolare, movimento emotivo, diventa amore, diventa attrazione. Uno slancio, un desiderio, una voglia di raggiungere un qualcosa. Ho sempre visto tantissime immagini di quadri, di artisti, di maestri del passato e ho bisogno sempre di scimentarmi in nuove sfide. Dipingendo io metto in pratica i miei modi di essere anche nella vita, la fase di costruzione, quindi irrazionale, precisa, attenta e poi c'è la fase irrazionale, isterica. Ho la sensazione di controllo, ma nello stesso momento mi piace perdere il controllo. La sorpresa è che questa cosa prenda delle strade assolutamente inaspettate. I contorni e l'immagine vengono distrutti, quasi rinnegati, per poi essere ripresi. Io lavoro lento e mi porto per tanto tempo, per anni addirittura, alla ricerca di una verità nascosta. E' stato un momento di forte disequilibrio emotivo, in cui mi sono perso. Lo scontro, che può essere anche uno scontro attrattivo, contaminazione positiva, di arricchimento. Io ho molto gli animali, e per me l'animale rappresenta il lato istintivo, quell'istinto però sano, che non ti fa perdere tempo. Rappresenta quello che vorrei i miei personaggi ottenessero e raggiungessero. L'inconscio è una cosa con cui noi dovremmo fare pace, affrontare i propri fantasmi, le proprie paure. Insomma, il proprio inconscio, che non deve farci paura, ma deve essere un motivo, semmai, per trovare le nuove forze. Si diventa pittore col tempo, con l'esperienza, con la voglia di scoprire, con la curiosità, complicandosi la vita. Non esiste il basta, mai, sempre. Alla fine subentra, non volersi accanire con un po' di rassegnazione, ma con la consapevolezza che comunque non potrei mai raggiungere una fine. Alla fine subentra, non volersi accanire. Alla fine subentra, non volersi accanire. Grazie.